Buongiorno a tutti, sono Mario Mele, consulente immobiliare della Remax Stella Polare, oggi sono con Francesca Vasiento, un assistente immobiliare, vi presentiamo un immobile su Adelfia. Buongiorno, siamo in via Borgo San Rocco 38 per presentarvi questa soluzione indipendente posta su tre superfici. Andiamo! Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Bene, se questa soluzione vi può interessare, contattateci così fissiamo un appuntamento. A presto!